Una cosa, non so se si sente, lui è mio padre. Io ho fatto l'ultimo chilometro perché un giorno mi senti stanca, prima di Tokyo mi sentivo stanca. Mi disse, babbo, sono stanca, gli allenamenti sono intensi, però io non mollo. Lui mi disse, Angelino, babbo, un campione è un po' come il ciclismo. Il campione quando vede l'ultimo chilometro, lo sai che cosa fa? Pedala ancora di più. Allora tu arriva a quell'ultimo chilometro e pedala, vai fino in fondo perché io sarò sempre con te. E così ho fatto. Fino alla fine ho combattuto con sangue negli occhi perché volevo a tutti i costi questa vittoria.